Ho 23 anni e mi chiedo se la vita non sia sprecata con me. Io prendo a cuore tutte le cose belle finché quasi non mi uccidono. Sono proprio felice che tu sia qui. E perché mai? Perché mi piace. Sei quella giusta per me. Provo lo stesso per te. Mi sono arruolato. E perché l'hai fatto? A volte sento come se avessi già visto tutto quello che succederà. Ed è un incubo. Il mio unico vero traguardo è stato non morire. Muomersi! Uomini a terra! C'è questo rumore nella mia testa. Ma smetterà. Un giorno non ci sarà più. Immagino che nessuno rapinerebbe una banca se non fosse davvero disperato. Lo faccio da un po' ormai. Ed è chiaro che la mia faccia è conosciuta. Le uscirai vivo. Ti amo. Riesci a tornare indietro a quando hai incontrato la persona che hai amato di più e a ricordare esattamente com'era. Ciò che hai visto in lei che ti ha fatto dire sì, questo è proprio ciò che cercavo. A volte sento come se avessi già visto tutto quello che succederà. Ed è un incubo. Ed è un incubo.